Hola io sono Marcus Cron e ouch bentornati nella Tekken Bcraft 4 signori e signori season 4 per noi sono andato a cercare un po' di chaibo come potete vedere sto soffrendo il pene dell'inferno e ah io, no non farlo ho trovato una folta piantagione anche se non si può parlare di piantagione perchè sono animali di questi qua come si chiamano? uh, cappello no regà però io sto morendo come faccio? faccio così? come faccio così? devo sbrigarmi devo sbrigarmi, devo sbrigarmi ahio, ahiaiaiaia sbrigati, sbrigati, mangia basta? non succede nient'altro? siamo sicuri? perchè io non mi ricordo mai come funzionano le regole dello starving ok, ho soltanto un cuore, è molto dangerous tutto questo, devo tornare a casetta ma c'era però un po' sciotto di cose, ok ho trovato un sacco di... che cos'è questo? uh, uh, il mood che schifo un sacco di galline e io adesso non ricordo dove ho fatto casa se casco e prendo un danno soltanto muoio muoio, 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 muoio e se arrivano i cattivissimi ci rompono il quello non mi ricordo dove devo andare ragazzi forse sarebbe il caso che guardi strozzissimo ai 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 signori questa è la prova della vita sbrigati, no no, ci sta intercettando ci intercetta, ci intercetta wuhuu fiu ok, allora ninne non posso, giustamente ok, allora, 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 allora io qui ho fatto l'altra di queste voi non so se state vedenzo però chi se ne frega cioè nel senso se ce vedo io oh mio dio, questi stick sono rosa oggi faccio tutta casa rosa ho trovato del coal sotterraneo però così non funziona ok e possiamo illuminare questa zona good, 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 good poi in questa cesta dovrei avere la nostra cobblestone con la cobblestone facciamo via questa, via questa guarda il testimone di Jawa guardalo, guardalo, guardalo eh si, brr tu nonna, brr facciamo un paio di fornacine non faccio mai quelle slab mi piacciono tanto queste che te devo dire le mettiamo qui e cuoquiamo i cosciotti di pollo e solo due ne ho ammazzate un cifro incredibile va bene aspettiamo 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 uno vai così gnammi 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 perfetto adesso riprendo un pochettino piccolo 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 sbrigati ah si braciola chissà se mi uccide ma se vado a dormire non posso giustamente bella come stai scialla eh tutto regolare bravissimo vai a dormire siamo saldi spero che l'idea della serie vi sia piaciuta a me sta fomentandino andiamo un po' a uccidere qualche stronzo hop hop ciao creeper pim no non esplodere uh uh lagone no non esplodere ok e bim ok è morto anche lui sono morti tutti no è pieno di creeper là sopra comunque ho visitato questo lato qua e adesso prendo questo bellissimo questo bellissimo call e volevo andare a visitare l'altro lato giusto per dare un'occhiata a quello che ci può stare anche perché vedo che ci stanno delle entità che il gioco non conosce che la minimappa non conosce e ho perso ho finito il piccone allora innanzitutto mettiamo luce qui qui e qui qui e voilà ed entriamo dentro casotta molto bene prendiamo il shiborio ok queste cosine le lasciamo qui non ce ne frega un cascio paio di niente forse dovrei fare altre cestole non posso dormire di giorno accidente accidentaccio e voilà ne facciamo ma ne facciamo tre spreco tutto il legno che ho spero soltanto di ricordarmi di di riprenderlo ora con uno stick non ci faccio davvero niente facciamo un paio di picconi bingata e andiamo all'esplorazio del lato destro che io sono salito là sopra questo è un creeper dell'ender zone no vediamo un po' dove mi telepippi qua non è che è mai spostato poi così tanto ok allora laggiù alberi della towncraft alberi della towncraft albero gigantesco della natura ciao albero gigantesco tra l'altro questo qui dovrebbe portarci una uh le api dell'harvester vieni qua dammi un'ape dovrebbe portarci alla memoria alla tecn salve salve no 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 io vengo in pace io giuro aiaia scusatemi scusatemi cosa posso fare per voi porca 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 ancora non mi hanno colpito ancora non mi hanno colpito ancora non mi hanno colpito via 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 dei blocchi dei blocchi dei blocchi e dai sbrigati dammene uno a a a a mi inseguono ma la smettete ma la smettete per favore ok vattene a no tu vattene tu vattene stai lamentando stai lamentando stai lamentando stai lamentando stai lamentando a a come si chiamano questi Crimson Knight, regà ma si rigenerano ah no 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 ok c'è l'anni cuori, provo ad ammazzarne uno fisso, vieni qui, vieni qui sono in netta disparità però visto che non è che mi fido tanto io mi alzo ancora di uno vieni qui, schifoso lezzo, vieni qua dai che manca poco dai che ce la facciamo è morto che ci dà? niente solo esperienza comunque sono fighissimi, voglio un'armatura del genere mori uh no 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 è roba mia, è roba mia, è roba mia, vattene vattene, vattene, vattene uh che mi ha dato? l'armatura è il Crimson Knight the book is filled with strange symbols uh ho guadagnato warp ok dove è finito ciccio? ciccio uh anche le pepette no signori seconda puntata seconda puntata ma siamo siamo teutonici ma cazzo è il bello che non mi hanno mai colpito io ho paura di sapere quanti cazzo di danni possano fare quei cosi eh quanti ce ne sono? facciamo un po' di così ma sono tanterrimi ehi la amici ciao vediamo quanto cosa? sì vabbè ma così faccio notte vediamo quanto mi fanno due cuori due cuori con tutta l'armatura mortacci vostra 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 regà però così l'impallo la giocata dai su e basta andatevene via allora andiamo ad esplorare per di qua un porco un altro porco sempre lo stesso uh cavallo 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 significa pelle quindi andiamo a prenderlo una palla di pelle da pollo fece aveva una palla di figlio da pollo che si chiamava tutti i pesci che vengono a palla se guardi la palla da pelle di pollo fatta da pelle figlio di pollo mi ricorderò per sempre un ragazzo che mi disse Marcus non uccidere i cavalli quando muoiono mi fanno piangere perché i cavalli sono persone orribili quindi vanno uccisi questa qui è sempre una bloberata io cerco sempre il dungeon della towncraft e invece oh però che bello interesting funghetti oh di qua abbiamo io non ho messo il waypoint porca laoggia di qua abbiamo di qua abbiamo oh melinde buone pronto? non sei pronta no? non è fatta questa? no non è fatta e qui chi cazzo siete? ah ma è un cappello ah è vero io avevo preso un cappello mori? quanto mi stanno sul cazzo sti cappelli a forma di di persone allora H questa no questa no questa non so che cos'è ma va bene signori oh è una cosa è portal ho messo il render non troppo distante perchè effettivamente dopo la ghicchio sto a un giga e cinque vado benissimo bene sto collezionando un sacco di materiali devo dire utili in questa puntata di norma andrei in miniera eppure dammi subito quella cosa lì ecco qua più templare di così si muore che brutto però effettivamente forse sarebbe il caso di come sto facendo adesso procurarmi prima una cifra da mangiare e poi andare in ho finito ho finito ho finito gli oggetti utili taccimia prendiamo un piccone scendiamo di un attimo datemi un secondo ragazzi ma la mia pala aha eccola jumbo 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 hook avere un rituale che non conosco con persone estremamente forti proprio dietro casa mi rassicura molto come far sentire rassicurato marcus cron mettigli un portalone ok continuiamo la nostra carneficina la nostra ecatombe di super mostri guarda uh ananas no cazzo sono pieno leviamo la torta nananas che figata qui c'è da piantare l'ira di dio ci serve sicuramente una bag dopo ce la preoccuperemo di fare butto questo butto il snowball seed tanto vivo vivo niente di interessante uccidiamo un altro po' di cavalli vieni qua che cazzo ce faccio quei cavalli stronti 30 anni pa' domesticave mori mori schifoso lezzo ok è l'ultimo cavallo poi basta vabbè dai ce n'è un altro mi dispiace cavallino ma non vedo mucca in questa mappa, e tu sei fonte di pelle, addirittura me ne hai date 7, con 7 ci posso fare la colla, tipo le cuffie uh, ti protegge dalle mandrake, che figata vampire, ci sono un sacco di cosine nuove ragazzi, ma un sacchissimissimo comunque anche questo posto per far, oh ma guardate quanti cavalli, ma poi dite che li voglio uccidere io che sono perfido e sono cattivo, no, sono loro che sono cavalli anche questa, io qui nella TecambiCraft 2 c'avevo casa non so che cosa buttare vabbè, ah, mangio questo e poi, eh, ritorno a mangiare questo e visto che non ho legno, mi attacco qua, quindi in realtà qui dentro si potrebbe fare qualcosina sempre come omaggio diciamo alla Tecambi no, ma io ho sentito un no, un criberone, come si chiama? eh, mo? è mo? no, l'anarassanomia leviamo la carne morta che fa schifo il cazzo secondo me c'è un coso, un enderman dentro sì, dentro qui perché fa un casino della madonna oh mio Dio oh mio Dio comunque, 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 comunque sto prendendo questo legno perché dovrebbe darmene quattro anche lui e stavo finendo il legno ok, signorotti torniamo a casotta e andiamo a dare un'occhiata alle profondità della terra oppure oppure proprio perché sono stronzo potremmo fare un'altra cosa uh uh mocca mocca, 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 mocca ebbè, queste però me le devo prendere allora, facciamo così oppela e oppela uh, i bash i bush i sprunft dov'era quella gola che avevo detto uh, interessante Marcus Cron non la, non la trovo non la trovo più ah, ecco perché laggo poco perché ho messo la, la grafica al minimo che merda è un po' una merda in effetti vabbè, allora torniamo a casa e poi andiamo a fare gli stronzi in giro ed eccoci qua ho cotto il cuocuibile ci prendiamo un altro piccone ci prendiamo le torce ci prendiamo il coal e che altro di red? basta basta stavo cercando se ci fossero delle bag che posso fare adesso cioè quella della project red ci serve davvero davvero tanta robetta ora qui intorno ci stanno dei creeper li vedo li percepisco ma prima stronzo di un Marcus Cron fatti una chest cioè prenditi un po' di legno così nel caso fai una chest vieni qui cobblestone di merda eccola qua e lasci tutto lì dentro il garlic invece lo mettiamo qui e apriva ancora poi come si faceva così chiamiamo casa ragazzi come andiamo? ma come ma come cazzo andiamo? bene 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 allora cerchiamo quella gola profonda dove cavolo sta dove cavolo era era laggiù secondo me eppur eppur si muoveva nel senso eppur mi pare di averla vista qui ma 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 oh un fungo luminoso ah è quello che fa che storia ragazzi che storia allora era qui si vabbè basta mamma mia molto meglio ha 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 dove che cazzo sta quel buco scusate che sono volgare mi dicono che sono volgare e io gli dico la volgarità amico caro non ha mai ucciso nessuno l'ignoranza l'ha fatto e quello lì è copper quindi in barba a chi mi dà del volgare stavo per diventarlo davvero 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 tanto andiamo a riprenderci la roba con soltanto l'uso di questo piccone andiamo è laggiù e Dio lo vuole andiamo bomba lanica porca paletta che cazzo di volo che ho fatto niente creeper per favore dammi la mia roba dammi la mia roba vai mettila 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 ok ok torce ok ma soprattutto leviamo questo ok dunque signori questa è gravel uh 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 già così uh uh quello buono e sto male aspetta aspetta mangia manfredi mangia 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 che importante ok dopo aver fatto la pappa eccolo qui e il feruccio nostro e il feruccio bello de casa vieni qua vieni qua ah si si possiamo fare cose col ferro possiamo fare cose cose con l'uranio oh mio dio c'è l'uranio l'uranio ok sento zombie sento zombie uh uh questo è buono non posso minarlo si posso minarlo ci hai detto un po' ma ci sono le cose no lo rompe e che cazzo ok peccato perché era buono che diavolo è quello non lo so e voglio andare a scoprirlo uh è quello avete capito come si chiama è tu nonna è quello della della towncraft esatto bravissimi siete fortissimi ma ti incazzi no non ce l'hai con me vero sei bravo si ok allora io mi rifugio qui ah io ah io sento sento stronzi in avvicinamento eh eh stronzone con le lucette in avvicinamento c'è anche la dance ore interessante allora crafting table voilà poi dove è finita qui poi fornaciccia bene poi forro e coal che ci facciamo il piccone di ferro intanto continuo a prendere questo e poi e poi e poi oh mio dio che brutti rumori che brutti che bruttissimi rumori perché questo non posso no c'è scritto pickaxe harvest level redstone e noi possiamo prendere la redstone soltanto con il forro però posso prendere questo forro molto good goodissimo non smetti di farti del male da solo cioè sei un po' masochista sei un po' masochista che vuoi che vuoi no non ce l'ho roba per te tu vai a pepite levati su levi te levi oh te devi da levà non hai capito ragaponsio so de romanzo de ansio ok dovremmo aver fatto un piccolazzo bello de casa vieni qui senti che poesia regà si vabbè ma stai a morire ma sei un cretino ma dove sei finito pronto che stai a fa' qua dai ti sposto bravo no 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 aio aio ce l'ho cascato io ok allora allora questo qui è copper uh oro 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 buono e qua abbiamo le gemmozze gemmozze che possiamo utilizzare per fare degli strumenti equival ferro quindi con queste otto gemmozze bellisci pisci io torno su anzi più di otto grazie non mi ricordo la progressione mi pare che il rubino sia quello più migliore assai buttiamo dentro anche questo ferro qui dentro invece di fare una spada di ferro e quindi sprecarlo faccio una spada di zaffino e infatti mi sa che lo zaffir è quello che costa quello che mina di più che spacca i culi di più la principessa zaffir na 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 vediamo un poco se non mi sbaglio più 5 più 4 regà questo è meglio questo è meglio c'è il doppio della durabilità wow e visto che ci sto mi faccio anche questo e porca la pupazza opela 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 ho sprecato tutto il legno son coglione no fortunatamente c'è ancora una cosa ok ho un set di smeraldo la fornacice l'avevo però l'ho fatta lo stesso perché son credino opela direi di prendere questa bellissima chest fare così 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 questa la mettiamo qui lo scuppettino non me lo porto anche se posso trovare cose effettivamente inerenti questa la lasciamo questa me la porto questa me la prendo e signori nella prossima puntata andiamo ad esplorare tutto no l'uranio no oddio posso prendere l'uranio ma mi ammalo se ce l'ho in mano eh eh urano no non gliene frega niente nella prossima puntata da Dec Ambitraph 4 andiamo a visitare le profondità cercando di carpire qualche cosa ci scappa un diamantollo schifo non mi fa e come al solito ragazzi pollice nel su bella per voi